Buonasera, stasera siamo in compagnia del professor Fernando Aiuti, professore buonasera. Stasera la coinvolgiamo in qualcosa di un po' meno tecnico rispetto alle altre nostre interviste, ma forse un po' parallelo alla medicina tradizionale, ma altrettanto importante, il rapporto medico-paziente, sicuramente la fiducia che un paziente ha nel proprio medico, quella che si chiama l'alleanza terapeutica, credo che sia in qualche maniera parte della terapia, però la difficoltà forse è anche costruirla, come si instaura il rapporto reale medico-paziente che non si è fatto solo di consegnare una ricetta con la terapia? Un argomento difficile e anche quasi impossibile a trattare in pochi minuti, però cercherò di semplificare, è sicuramente importante stabilire un rapporto di fiducia e deve essere un mutuo scambio di fiducia, il medico deve avere fiducia anche nel paziente, il paziente ovviamente nel medico e è difficile certo instaurarlo nella prima visita, specie se un paziente viene visto in maniera saltuale, con il medico di famiglia dovrebbe essere praticamente molto più facile, il medico di famiglia ha la possibilità di vedere e studiare i pazienti nel corso dei mesi e degli anni in cui li assiste, potrebbe essere interessante anche fare un'intervista a un medico di famiglia per capire la differenza tra un professore universitario ospedaliero e il medico di famiglia, come vengono trattati i malati e quali sono i problemi che vengono fuori. Io penso che questo rapporto di fiducia si stabilisca dicendo la verità ai malati, in gran parte ovviamente, e anche ovviamente pretendendo la verità dagli stessi malati e non imponendo le terapie, non imponendo gli esami diagnostici specialistici, ma cercando di convincere il paziente che è importante a farli per il miglioramento delle sue condizioni di salute. Quest'opera di convincimento richiede tempo e ovviamente richiede anche una capacità di persuasione. Chiaramente il medico, forse una cosa che non dovrei dire, ma la dico perché l'esperienza, una terapia data da un medico un po' più famoso, specialista, forse ha un migliore successo e più facilmente accettata da un paziente rispetto a quella che viene data da un medico altrettanto bravo, forse anche più bravo del professore, che viene invece considerato come il medico di famiglia, quindi generico e quindi non in grado di risolvere i suoi problemi. È chiaro quindi che è importante anche non usare i metodi di autorità, autorevolezza sì, ma di imporre con la saccenza, con la presunzione, bisogna dare le spiegazioni e quindi mi sono trovato bene spesso perché i malati ci prendono un po' di tempo e cerco di spiegare qual è la patologia, anche l'izopatogenesi delle malattie. Un'altra cosa importante, tornando diciamo al discorso del rapporto medico-paziente, è l'ambiente familiare nel quale uno si trova, specie, perché oggi i malati vengono sempre accompagnati dal partner, dal marito alla moglie, dai figli, dai figli, dai figli e quindi l'ambiente familiare va studiato nella psicologia non solo individuale, perché il paziente è un'entità sicuramente, mi piace dire la parola paziente, è un malato, diciamo così, importante, però il contorno nel quale si trova è altrettanto importante, perché avere un genitore ansioso, una madre ansiosa, una moglie che invece pretende di decidere lei quali sono le mani da fare e quindi è importante stabilire, mettere dei paletti. Vediamo adesso, diciamo così, il comportamento di una persona normale che non ha, problemi particolari, ma che viene dal medico e quindi io cerco di spiegargli quali sono le analisi che deve fare, lui mi racconta i sintomi e va avanti la storia normale e poi si segna l'anasi, poi ritorna e si arriva a un percorso diagnostico-terapeuto nel quale si deve convincere che quella terapia deve essere fatta per il suo bene, ovviamente spiegando anche quali sono gli effetti collaterali dei farmaci, non sempre vanno le cose dritte, quindi. Poi abbiamo, diciamo così, nella mia esperienza, ci sono dei pazienti che hanno degli atteggiamenti particolari, sono i pazienti che sono paurosi, patofobici e quindi esaltano quelle che sono le loro preoccupazioni, la loro sintomatologia e lì bisogna cercare di capire qual è la reale patologia che viene, diciamo così, presentata dal malato a quella invece qualcosa in più che viene aggiunto. Mi ricordo insomma le storie di persone che vengono perché hanno la paura di avere contratto l'AIDS, la paura di avere contratto l'epatite, tutti essono negativi ma non si convincono e quindi è importante anche capire che tipo di pazienti hanno. Oltre ai pazienti diciamo così patofogici poi ci sono i pazienti che esagerano i loro sintomi per farsi credere e quindi anche lì bisogna capire se i sintomi sono, non dico reali ma insomma sono esaltati oppure no. Oltre ai pazienti che hanno paura di avere le malattie sono rari ma io ho visto nella mia storia un altro tipo di pazienti che spesso i medici confongono con i patofobici, i patofobici non sono patofobici, sono pazienti che non hanno una patologia, quindi non ce l'hanno ma se la inventano completamente, è la famosa sindrome di Munchausen dal nome del barone del 1730 austriaco che era famosa centralmente con la medicina ma raccontava di essere stato sulla luna, raccontava che andava a volare eccetera, finché poi nel 54 un libro inglese descritto nel Lancet questa patologia pseudo fantastica, pseudologia fantastica ed è importante perché io stesso sono stato tra virgolette vittima ma insomma ingannato da persone che sono estremamente intelligenti, estremamente abili, che si avvicinano al medico anche al di fuori del rapporto medico paziente, magari perché sono vicino al posto di lavoro in un'associazione, mi ricordo il caso di due casi, una persona che si avvicinò all'Alaiz dicendo che era siropositiva, che aveva l'infezione d'HIV e ci presi in giro per 3-4 anni finché poi per un incidente di percorso scoprimmo che non era vero e ovviamente lei che pensa, la persona gliel'abbiamo detto, io sono l'autorità e mai preso in giro, cara X, se l'ho mai preso in giro per 4 anni, ma mica perché non è che faccia niente di male, però insomma. Un'altra persona che è riuscita per 5 anni, non veniva per quella patologia lì per dire che c'era il lupus, in realtà il lupus che era in cura in Svizzera, poi è diventata l'insufficienza renale, era andata in un centro di dialisi, in vari centri di dialisi a Roma, era in dialisi, poi quindi poveraccia, delle vene bucate, terribile, quindi insufficienza renale, in dialisi, poca speranza di vita, il trapianto di lei, in lista per il trapianto, mi aiuti a mettermi il terremoto, anche questo non aveva niente, e anche quella, la storia è durata 6-7 anni, non è che è nato me, è nato anche altre persone, poi aveva un tumore al rene, anche quella è guarita sia dall'insufficienza renale, un miracolo, il letto con le candele, un miracolo è avvenuto, il punto di morte, la persona oggi è viva e sta bene. Tra l'altro c'è anche la Munchausen per procura ai propri familiari, per i bambini, infatti anche quella è difficile da identificare. Anche quella posso raccontare di bambini, di solito 8, 10, 12 anni, di madri, che sono così forti come carattere, eccetera, e che vogliono ottenere qualche cosa dal marito o dal figlio, per cui inculcano il figlio e sta sempre male, e quindi quella è una cosa molto importante. Quindi anche la tipologia del paziente e avere magari anche il tempo, perché poi spesso il medico non ha il tempo, ma tempo da dedicare a vedere oltre il sintomo. Ho creato in un libro che sto scrivendo, che si chiama Il nostro meraviglioso sistema immunitario, ho scritto il fenotipo dei malati, ci ritorneremo, ma diciamo che il fenotipo è normale, poi c'è il fenotipo invece ansioso, preoccupato, che esalta tutta la sintomatologia, poi c'è il fenotipo invece che minimizza, e questo è importante, autoritario, di solito un manager, una persona che è arrivata nella vita, manager di azienda, arriva nello studio e ha già la diagnosi, io ho questo, questo e questo, ma cosa stupida non c'è niente, io ho già visto su internet, faccio la diagnosi, mi faccia questi esami qui, e quando uno cerca di interrompere, non c'è niente, ma lasci fare, io ho già visto, scusi allora cosa è venuto a fare da me? E' perché voglio il conforto di la diagnosi alla quale sono arrivato, e quindi è la persona che trasporta nella sua patologia che è reale, la sua personalità forte, potente, quasi dittatoriale, che vuole imporre al medico le indagini da fare, e poi c'è invece il soggetto, quello timido, introverso, che un po' esalta era la sintomatologia, e nei rapporti appunto della famiglia, e quando non lasciano i mariti che non lasciano parlare le mogli, oppure le mogli che non lasciano parlare i mariti, quasi sempre sono le mogli che non lasciano parlare i mariti, e quindi è interessante questa psicologia, perché anche lì poi nella diagnostica bisogna tenerne presente ovviamente, al di là delle indagini che devono essere fatte, quindi la distinzione tra i vari fenotipi dei pazienti dal punto di vista psicologico è ovviamente super esemplificata, io non sono un psicologo, però un'esperienza fatta in tanti anni, può essere di aiuto per la terapia anche, per la diagnostica di questi pazienti. E anche credo il rapporto, le dinamiche familiari sono importanti, è importante forse che il medico riesca a leggere, a volte quello che il paziente non ha magari il coraggio di dire, il suo vissuto, le difficoltà a volte magari di una terapia in quel momento della sua vita, a volte c'è la difficoltà di confidarsi con il medico, e però credo che lì bisogna intercettare forse alcuni bisogni che vanno oltre magari il sintomo… Sì, perché è anche difficile delle volte che le persone che vengono insieme, e quasi sempre sono madre e figlio, grande, quarantenne, 45 anni, 35 anni, e la madre pretende di essere presente alla visita, e io cerco invece di fare una visita sempre separata nel contesto familiare. Delle volte sono anche brusco, dicono, qui in questo studio, lo facevo anche al Policlinico, più di due persone non ci possono essere. Poi, scusami, dispiace signore, riuscire un attimo, perché poi quando si tratta di entrare nell'intimo della persona, e chiaramente anche la madre può non sapere certe cose che il figlio sa. E che possono aiutare poi il medico invece nel rapporto. La madre è sempre lì che fa il pressing per non farsi sfuggire il controllo, sono quelle madri che vivono con i figli delle volte a casa e che non ne vogliono mollare nemmeno a 45 anni. Professore, in conclusione, anche oggi si parla molto di medicina narrativa, della possibilità che un paziente racconti la propria vita, il proprio vissuto. Quanto è importante anche la formazione dei medici in questo senso? Perché forse non sempre un medico giovane soprattutto è preparato ad accogliere il dolore, non fisico, ma il dolore che una diagnosi importante può provocare. E quindi anche uno scambio emotivo avviene soltanto se c'è una preparazione prima. Eh, lo sa che lei è proprio brava. Perché non avevo dimenticato, mi sono sempre parlato ai pazienti, però è importante anche che i medici sappiano fare i medici e sappiano affrontare i pazienti con la giusta, modificando i loro atteggiamenti, cosa che non è, mi è capitato anche a me personalmente, perché c'è modo e modo di dire una cosa. Per esempio, uno c'è una notizia brutta, c'è un indice tumorale, una macchina, non si può andare a dire a persone. Eppure intingere già una persona che ha una diagnosi sospetta o certa, magari di un tumore, che oggi non significa niente, perché molti tumori, lo 70% si curano, e invece poi dicono, eh no però, questo c'è anche sospetto di linfonodo, cioè non si rendono conto che la loro presunta capacità diagnostica o scienza innata, che io non discuto, possono avere o non avere, però poi traslata alle pazienti, non può essere messa, diciamo così, in quei termini bruschi, brutali, e quindi ogni paziente anche lì, sono quelli che, come ho detto prima, sono una scorza e non importa niente, e quelli invece che sono molto sensibili, per cui vanno anche in crisi gravissime, e quindi i medici, purtroppo devo dire che la mia esperienza, non solo quella, così, una volta come il matrimonio da qualche specialista, ma anche con i familiari, mi sono trovato in situazione con i medici con i miei familiari, oppure con amici, devo dire che mi ha stupito l'atteggiamento o esagerato o superficiale o presuntuoso che molti medici hanno, soprattutto questo è più di super specialisti, che confinano tutto il problema alla patologia di organo, e non vogliono sentire storie, e invece oggi si fa sempre più verso una medicina interspecialistica, è la persona, perché se io ho un tumore del laringe, non può sentire dire che l'aringe che si è scoperto, il papilloma virus, l'aringe che potrebbe essere correlato a questo, ah no, ma io ne ho visti tanti, vado così, è fatta l'indagine per la ricerca del papilloma virus 16-18, ecco, questo è un esempio, il specialista va avanti così, magari in quel momento non è aggiornato, e non gliene importa niente, no, io faccio la teoria perché così, parliamo ovviamente di casi rari, però ci sono, e la cosa che io condanno di più, anche nei giovani medici, è l'atteggiamento che sempre di più anche i giovani medici hanno di far sentire il malato in inferiorità psicologica, questo è gravissimo, è gravissimo, non parliamo poi negli ospedali, i medici che danno del tu, senti allora come stai, c'è i dolori, il professore che la mattina fa visita, io non ho mai dato la vita perché mio maestro mi ha insegnato, mi danno sempre del tu, la confidenza, la mito, però molti medici danno del tu, i malati, i malati devono dare del lei, già questo è un punto di partenza sbagliatissimo e quindi al Presidente dell'Ordine dei Medici, nazionali e regionali, io direi facciamo un'autocritica, cominciamo a insegnare come si devono comportare i medici di fronte ai malati. Sì, perché spesso nessuno insegna a un giovane medico a rapportarsi malamente. No, la tecnologia sono bravissime, al computer eccetera, poi però bisogna capire anche, a Nati Angelo non si può dare col biglietto così. Professore, la ringraziamo moltissimo il suo contributo perché è sempre un po' speciale. Grazie. Grazie. Grazie.